Ciao ragazzi e benvenuti su Castiubedrums! Come potete vedere oggi non ho la batteria perché come avete visto dal titolo voglio spiegarvi come si monta una batteria è un video che in realtà può sembrare stupido ma non l'ho mai fatto un sacco di gente mi chiede tante volte magari la gente che compra la batteria e ancora non sa montarla o ha qualche dubbio e quindi ho detto perché no facciamo il video in cui vi faccio vedere come si monta la batteria in realtà montare la batteria sembra super semplice ma poi quando ci si trova lì con tutti questi pezzi uno diverso dall'altro non è poi così semplice io mi ricordo che la prima volta che ho montato la batteria ho fatto un sacco di cavolate e avessi avuto qualcuno ad aiutarmi forse non avrei fatto questi casini quindi detto ciò questo video vuole essere per chi inizia e non sa montare la batteria eccetera ma anche per chi suona già da tanto tempo e quindi magari insegna e quindi a degli allievi che hanno difficoltà nel montare la batteria e anziché dover stare al telefono sei ore a dirgli fai così fai cosà almeno c'è questo video glielo linkate e vi togliete il problema ultima cosa che vi dico prima di far partire la sigla e poi andare a montare la batteria tutta questa questione di montare la batteria accordarla eccetera e poi tutto il percorso per incominciare a suonare veramente la batteria c'è su vibely in un insieme di serie chiamate batteria da zero quindi li partiamo veramente da zero 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 ma anche dalla scelta della batteria come comprare la batteria come accordarla quali sono le cose importanti e poi di lì in avanti incominciamo a suonare sulle canzoni incominciamo a vedere group famosi eccetera quindi è un percorso proprio super graduale da zero appunto fino a riuscire a suonare le principali canzoni rock quelle un po più famose diciamo in queste serie di vibely ci sarò io ma non solo io perché ci sarà anche fabio felkirker con una sua serie dedicata a tutto il mondo delle terzine tutto il mondo dello shuffle che in pratica è un po la continuazione delle mie serie mie ce ne sono cinque e poi oltre a fabio ci sarà anche philmer che è uno dei batteristi più famosi d'italia più forti che abbiamo in italia che vi spiegherà la batteria pop tutte queste serie insieme fanno un totale di più di otto ore di video quindi c'è un botto de roba raga tutto quello che vi ho spiegato adesso ve lo lascio qui sotto in descrizione cliccate e vi riporta direttamente a vibely come solito mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante che vi dico qua in questo spezzone tagliato male eccetera e cioè che avete la possibilità di trovare vibely per 21 giorni in modo completamente gratuito quindi cliccate sul link che trovate in descrizione accedete vi iscrivete avete la possibilità di vedere le serie di cui vi ho appena parlato e tutto quello che c'è su vibely gratis per 21 giorni detto questo quante volte detto questo un sacco non fa niente mando la sigla e partiamo a montarla per prima cosa prendiamo la gran cassa la gran cassa montatela sempre per prima vado a prenderla in realtà è molto molto semplice da montare cioè non vi farò vedere oggi come si mettono le pelli anche se qua c'è una grenze da tirare vabbè e però in realtà la gran cassa è da mettere per prima perché dovete metterla perfettamente in mezzo la cassa vi darà proprio l'idea di dove andranno tutti gli altri pezzi l'unica cosa che dovete fare è andare a girare questi piedini qua girate qui li tirate avanti sia da una parte sia dall'altra e grazie a questi piedini grazie a queste punte qua starà ferma in pratica quindi poi voi l'appoggiate per terra la cassa è l'unico tamburo che va appoggiato in maniera orizzontale al terreno e grazie a questi piedini la cassa starà perfettamente ferma dove volete voi e questa è l'unica cosa da fare con la cassa molto semplice grande ma semplice da montare successivamente pedale il pedale della gran cassa meglio se ce l'avete meno impolverato del mio ma questo non fa niente dopo averlo montato vi arriverà già montato l'unica cosa che dovrete fare prendendo una chiavetta tipo questo le chiavette quelle a t sarà quella di montare il battente cosa vuol dire questo qua è il battente della gran cassa voi andrete a metterlo nel buco proprio qui del pedale lo inserite e poi avvitate in questo modo e sarete già pronti ad utilizzare il pedale dopo andrete a mettere qui in mezzo vedete che c'è uno spazietto il cerchio della cassa lo mettete lì in mezzo avvitate e poi andate a controllare che il battente della vostra cassa vada perfettamente in centro alla pelle in questo video non suonerò perché sto montando la batteria non ho ancora i microfoni e se suonassi non sentireste tanto bene perché sentite il microfono che ho qui sotto quindi non è il massimo questo microfono per la batteria dopo aver fatto questo rullante allora rullante ho qui l'asta l'aste del rullante è un'asta molto particolare io all'inizio non ho capito che cavolo fosse quest'asta in pratica le aste hanno dei piedini tutte le aste che dovete aprire e quest'asta qua che è un'asta a ragno si apre in questo modo qua simile al sotto diciamo sembra uguale sopra e sotto ma questo ragno qua diciamo serve per tenere il rullante quindi voi in realtà così l'avete già aperta come deve essere aperta quindi l'appoggiate in questo punto qua quindi alla sinistra del pedale prendete il vostro rullante per chi è proprio super all'inizio il rullante è quello con queste cordicelle sotto chiamate cordiera e lo andate a posizionare proprio sul ragno di cui vi parlavo prima quindi state attenti che si posizioni bene e poi la cosa che dovete fare è praticamente andare a tirare questa ghiera che c'è sotto la ghiera che c'è sotto vedete che si muove questa ghiera qua togliamo la cordiera sennò non senti niente questa serve per chiudere il ragno in pratica quindi farlo chiudere bene e se voi arrivate fino a far tirare al massimo al massimo al massimo se voi tenete il rullante non scapperà mai dall'asta poi sotto il rullante in realtà ci sono degli aggeggini delle viti che servono per muovere il rullante quindi voi tramite le viti che avrete sotto potrete decidere come posizionare il rullante quindi più angolato verso di voi più dritto storto eccetera eccetera ci sono alcuni rullanti come questo che hanno proprio una vite attaccata a una pallina sotto e la pallina muovendoci ci permette di modificare il rullante come vogliamo quindi appunto storgerlo fare in un modo o nell'altro ci sono altri rullanti invece come questo qua i rullanti già i rullanti i reggi rullanti si chiamano le aste per il rullante un pochettino più economici che hanno sempre la ghiera che ci permette di chiudere bene il rullante e poi anziché avere la pallina semplicemente hanno una vite come questa qua che noi giriamo e possiamo far andare il rullante solo inclinato come si dice in avanti o indietro non di lato però comunque vanno benissimo anche queste aste qua dopo aver fatto questo charleston il charleston è il secondo pedale della batteria in generale in una batteria normale ci sono sempre due pedali solamente il charleston come funziona allora adesso lo vedete praticamente già montato ma in realtà quello che succede è questo mo ve lo slego ve lo stolgo come si dice ah bah che schifo ecco i charleston nuovi sono più belli perché succede questo questo invece vecchio vabbè quindi nel charleston avrete tre pezzi la parte col pedale collegata alle gambe è tutto e queste gambe le potete chiudere e fare così oppure sempre tramite le viti le aste sono sempre tramite le viti aprire in questo modo quindi il consiglio che vi do è prendete quest'asta apritela poi appoggiatele al terreno in modo tale che le tre gambe e anche il pedale stiano bene attaccate al terreno successivamente lasciatela lì io adesso la prendo per farvi vedere ma successivamente da terra prendete questa astina piccolina qua e andate ad avvitarla all'asta qui dentro quindi avvitate 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 finché fa forza poi prendete quest'asta qua la infilate all'interno di questa come vedrete quell'astina che abbiamo avvitato prima uscirà di qua e voi per chiuderlo cosa dovrete fare? semplicemente andando avvitare la vita è tutta una questione di viti sempre ci sono sempre delle viti da avvitare svitare per muovere o far star fermo un pezzo della batteria quindi in realtà la cosa qua sarà poi svitare questa vite o avvitarla per decidere l'altezza del charleston il charleston che adesso andiamo a montare eccolo qua il charleston che in realtà sono due piatti avete sempre un piatto con scritto top un piatto con scritto bottom quindi voi prendete il piatto con scritto bottom lo girate al contrario e andate ad appoggiarlo qui semplicemente tanto non so se avete visto che qua c'è proprio un appoggino diciamo apposta quindi voi prendete il piatto e andate ad appoggiarlo qua successivamente prendete il piatto con scritto top prendete questo che si chiama clanch e praticamente andate a svitare andate a prenderlo stando attenti che ci sia un feltrino qui sopra il feltrino è questo coso qua rotondo lo mettete sopra il charleston mettete un altro feltrino qui sotto e poi andate a avvitare con questa vite qua in questo modo voi avrete il clanch che sorreggerà il charleston adesso il clanch come potete vedere qui ha un buco quindi andate a inserirlo all'interno di quell'astina che abbiamo messo prima schiacciate un pochettino il pedale in modo tale che questo venga un po' giù chiudete questa vite del charleston e avete il charleston pronto per essere suonato quindi mi raccomando la distanza dei pedali deve essere abbastanza simile cioè non dovete stare con le gambe così 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 cercate di stare con le gambe a 90 gradi diciamo l'angolazione dalla rotula di 90 gradi dopo aver montato charleston rullante gran cassa che sono comunque i pezzi più importanti passiamo ai tom allora io ho due tom da montare tom tom e poi timpano per quanto riguarda i due tom molte batterie li hanno attaccati alla cassa quindi in quel caso voi vedrete un buco qua dovrete attaccargli un'asta che vada proprio dentro la cassa e poi di lì attaccherete i tom in realtà io non ho il buco nella cassa perché ho i tom separati quindi vi faccio vedere subito questa sarà l'asta che reggerà il mio tom è un'asta piatto in realtà poi dopo la vedremo meglio però come funziona praticamente vado a posizionare la mia asta qua poi prendo questa farino qui che in pratica come vedete ha un buco qua in mezzo io andrò praticamente a mettere l'asta qua in mezzo adesso vi faccio vedere in questo modo qua vedete che adesso questa mia clamp si chiama è perfettamente attaccata all'asta dopo andrò a mettergli il tom attaccato qui perché vi faccio vedere il mio tom ha questo attacco cioè è un tom con questo marchigegno qua qui c'è un buchino con una vite che quindi ovviamente come al solito le viti tirano e mollano una certa cosa questo buchino andrò ad inserirlo all'interno qua in questo modo quando mi piace l'altezza vado a chiudere la vite fino proprio a farlo tirare completamente e poi tramite l'altra vite cioè questa vite qua posso muovere il tamburo come voglio perché anche all'interno come nel rullante c'è una pallina che mi permette di mettere il tom in questo caso come voglio per quanto riguarda i tamburi i tom attaccati direttamente alla cassa non preoccupatevi in realtà è la stessa cosa solo che anziché mettere il tom in questo modo attaccato all'asta piatto che adesso vediamo semplicemente metterete il tom nello stesso modo ma all'asta attaccata alla cassa quindi è uguale fate andare giù l'asta e poi gli attaccate il tom l'asta che c'è attaccata alla cassa sarà un'asta doppia se avete due tom quindi sono andato a prendere anche quello del mio secondo tom vi dicevo l'asta attaccata alla cassa avrà due di questi in pratica uno da una parte uno dall'altra per attaccare i due tom io di questi ne ho due separati perché dovendo mettere i tom attaccati alle aste ho bisogno di due di questi affarini qua attaccati alle mie aste uno da una parte e uno dall'altra vado a prendere anche l'altra asta che praticamente funziona nello stesso modo quindi io qua andrò ad attaccargli la mia clamp diciamo quella che vi ho fatto vedere prima cioè vabbè adesso non so più dove l'ho messa laggiù non ve la vado a prendere avete capito però uso quest'asta un attimo per spiegarvi la differenza tra le aste perché questa è un'asta chiamata a giraffa cosa vuol dire? qui ha i tre piedini che si aprono con questa vite qua come al solito noi utilizziamo la vite e possiamo aprire e chiudere le gambe diciamo noi i piedini ma se voi guardate quest'asta in pratica io quando vado a svitare questa parte sopra posso fare uscire questa astina aggiuntiva girare in questo modo e far uscire l'asta dall'altra parte quindi questa parte qua dell'asta ha un buco e quindi io posso farla entrare completamente dentro l'asta oppure farla diventare a giraffa si chiama giraffa proprio per questo collo che ha alla fine dell'asta se no esistono aste a giraffa come questa o anche aste normale le aste normali semplicemente sono aste dritte come se quest'asta qua fosse così e non si potesse muovere solo in altezza ma non si può far diventare a giraffa col collo che vi dicevo prima quindi ovviamente io prediligo le aste a giraffa perché sono più comode cioè che si possono far arrivare più lontani si possono tenere più lontani e poi tramite appunto la giraffa si possono fare arrivare i piatti dove si vogliono però anche le aste dritte non vanno male tengono meno posto, sono meno pesanti e se vi bastano le aste dritte va benissimo quindi vado a montare anche l'altro tamburo come ho fatto per quello prima non sto a farvi lo spiegone in questo caso lo monto direttamente vi dico però ancora una cosa cioè che per chi non lo sapesse perché magari qualcuno è veramente alle prime armi bisogna montare i tom cioè non è una regola per forza ma se si è all'inizio montate i tom in scala cioè a parte il rullante che è quello con i fili come vi dicevo prima montateli poi dal più piccolo al più grande quindi questo qua il primo tom era 10 pollici questo è grande di diametro 12 pollici quindi vado a infilarlo anche lui come ho fatto prima con il tom da 10 in questo modo questa cosa è sempre un po' faticosa ok montato anche il secondo tom state attenti che i tom non tocchino la cassa quando li montate non fatele appoggiare perché rischiate di rovinare un pochettino proprio il legno della cassa quindi lasciate almeno tanto così tra il cerchio della cassa e il tom ora tocca al tamburo più grande cioè il timpano che andrà messo qua alla nostra destra ma è un po' diverso dai tom eccolo qua questo è il timpano decisamente più grande dei tom e vi dico subito che esistono in realtà timpani a terra come questo adesso cambiamo il perché o timpani sospesi i timpani sospesi sono come dei tom quindi appesi ma molto più grandi i timpani a terra sono ancora più grandi ma sono a terra quindi come vedete qua ci sono una, due e tre viti a cui bisogna attaccare delle gambette come attaccare le gambette? allora per prima cosa come potete vedere di qua una cosa importante perché questo è stato un errore che io ho fatto quando ho cominciato a suonare la batteria cioè guardate il timpano vedete che questa vite qua non è perfettamente in centro del tamburo ma è un po' più bassa quindi vuol dire che questo sarà la parte sotto del tamburo e questo sarà la parte sopra del tamburo quindi le gambe che sono queste e sono tre andranno messe in questo modo occhio a non metterle al contrario quindi il consiglio che vi do però è di metterle in questo modo cioè girate al contrario il timpano andate a mettere le gambette in questo modo qua con il finale della gambetta che punti verso l'esterno e non verso l'interno in questo modo e poi quando è a posto tirate questa vite e la gambetta non si muoverà più fate la stessa cosa anche per le altre due gambette fate in modo di metterle più o meno alla stessa altezza ma poi in realtà si potranno cambiare le altezze quindi mettetele pure anche a caso come volete dopo averle messe tutte e tre verso l'esterno girate il timpano e andate a posizionarlo come vedete ovviamente le gambette essendo state messe un po' a caso il timpano ha un'angolazione un po' strana quindi poi andate a tirare un po' di più un po' di meno le gambette quindi andate a mollare e tirare le viti delle tre gambette e ve le mettete nella giusta posizione quindi in modo tale che sia più o meno all'altezza del rullante dopo aver fatto questo siamo praticamente giunti alla fine dobbiamo solo mettere i piatti i piatti se voi avete montato i tom direttamente alla cassa dovrete prendere le aste io le aste le ho già prese quelle per i piatti e sono una che vedete qua un po' a spuntare e l'altra questa qua le ho già prese proprio perché ho dovuto già montarci i tom attaccati alle aste o comunque a parte di questo prendete o avete già preso le aste molto semplicemente i due piatti che ci sono di solito in una batteria sono il crash oltre vabbè il charleston sono il crash e il ride il crash è il piatto un pochettino più piccolo ve lo faccio vedere eccolo qua cioè non è che sia piccolo è abbastanza grandino ma sicuramente più piccolo del ride che è questo piattone enorme qua allora partiamo dal crash prendete il crash andate a svitare la vite che è avvitata a questa filettatura qua togliete un gommino cercate di lasciare sempre almeno un gommino qui sotto all'asta anzi ve la sposto in modo tale che la possiate vedere un po' meglio l'asta fate in modo che questa filettatura tramite questa vite qua sia abbastanza dritta appunto un filo verso di voi ma non troppo andate a inserire il crash qui gli mettete un gommino sopra e poi andate ad avvitare anche qui non preoccupatevi di montare il crash subito perfettamente al posto giusto eccetera perché ad esempio io l'ho montato troppo avanti quindi non riuscirei a suonare tutta la batteria perché avrei in questo caso il piatto che mi rompe le scatole quindi tramite le viti che ci sono sull'asta posso andarmi a posizionare il piatto nel modo che voglio poi ovviamente vedrete che man mano che andrete avanti a suonare la batteria posizionerete in maniera diversa i pezzi della batteria magari il piatto lo sposterete un po' più in là perché vi conviene quindi cominciate a montarla in questo modo in modo da riuscire a suonare tutto e poi con calma andrete a fare tutti i rifinimenti del caso ride stessa cosa lo prendete ho appena aperto la mia astra giraffa anche qua state attenti che ci sia un gommino sotto al ride poi posizionate il ride sopra proprio come abbiamo fatto sul crash stava per cadere tutto il ride potete tranquillamente inclinarlo un pochettino più verso di voi perché il ride andrà suonato con la punta della bacchetta quindi qua il crash andrà suonato invece con la col collo con la pancia della bacchetta e quindi potete metterlo un pochettino più piatto fatto questo come potete vedere ho completamente montato la mia batteria quindi adesso la cosa che dovrei andare a fare per farvela sentire sarebbe microfonarla ma non andrò a farvela sentire tanto l'avete già sentita in tutti i 300 video che ho già fatto quindi suonare solo così sarebbe solo un ripetermi con questo io finisco qua il video spero che sia stato tutto abbastanza chiaro spero di avervi tolto un po' di dubbi se non sapevate bene come montare la batteria come funziona il tutto e se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciatemi un like lasciatemi un commento fatemi sapere se avete bisogno di altre cose proprio da zero da zero come ad esempio il montare la batteria vi ricordo che qui sotto in descrizione potete trovare le mie serie di batterie da zero su vibri quindi trovate tutto qui sotto in descrizione mi raccomando andateci e fateci un giro perché almeno potete vedere anche semplicemente tutti gli argomenti che ci sono con questo io chiudo qua il video e noi ci vediamo al prossimo video ciao